Si chiama Moving On, il DJ contest ideato da Andrea Caponetto, 27enne giornalista saluzzese, da tre anni voce di TRS Radio. Un nuovo appuntamento nel calendario della provincia che si annuncia come un vero e proprio campionato all'interno del quale i DJ iscritti possono dimostrare le loro capacità dal vivo di fronte ad un folto pubblico che attende solo la musica per buttarsi in pista. La selezione è già iniziata in primavera, quando proprio su TRS Caponetto ha iniziato a far girare i mixati prodotti dai DJ in concorso. Durante lo zenzero, varietà comico-musicale in onda tutti i mercoledì sera sull'emittente saviglianese, si sono alternati una quindicina di ragazzi provenienti da tutta la grande e qualcuno anche fuori dalla provincia. La prima scrematura è avvenuta quindi tramite radiovoto. In otto puntate, racconta Caponetto in una nota stampa, sono arrivate in diretta quasi duemila preferenze. Una lunga impegnativa trafila che però non comporterà alcuna spesa per i partecipanti, che in totale saranno tredici, e offrirà quattro serate interamente gratuite al pubblico che vorrà partecipare alla tournée, sia per gustare la magia di una discoteca sotto le stelle, sia per supportare il proprio beniamine impegnato con i piatti. Una proposta che le realtà del territorio saluzzese, ormai privo di discoteche estive, non si sono lasciate scappare. La storica tappa di Villa Novetta-Verzuolo è stata riconfermata quale ouverture del concorso, venerdì 27 luglio. Seguirà la serata di Polonghera il 3 agosto, quindi la lunga notte di Costigliole il 17 agosto, e l'attesa tappa conclusiva di Paesana, 24 agosto. A giudicare i partecipanti, una giuria formata da 12 storici volti della console, come Alessandro Emanuele Schiffer di Radio 103, Don Paolo del Fortino Disco, Polo del Cubarele Cuneo e Gino Latino di Radio GRP.